Ciao! L'opera che hai di fronte è stata creata da Felix Gonzalez-Torres. Da quante lampadine è formata? Sei curioso? Contiamole insieme. Uno, due, tre, quattro, ventiquattro? Ti ricorda qualcosa questo numero? Eh sì, ventiquattro sono le ore che compongono una giornata. Le lampadine stanno sempre accese, ma prima o poi capita che si spengano. Un po' come quando, alla fine di una splendida giornata di sole, arriva la notte. Per ogni cosa, infatti, esiste anche il suo contrario. Per la luce esiste il buio, per il bianco esiste il nero. Pensa a una giornata in cui ti sei sentito triste. Ma poi, un bel regalo, anche solo una caramella, ti ha fatto diventare felice. Sai che anche a me piacciono molto le caramelle e mi fanno sorridere al sol pensiero. Pensa, una volta Felix Gonzalez-Torres ha realizzato un tappeto fatto di caramelle. E i visitatori potevano portarsene via una e mangiarla proprio come se fosse un dono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.